Romina Francesca Power è una cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana. Poco fa è apparso sui social di Romina Power una foto di lei e la piccola Ilenia Carrisi ancora in fasce. La piccola nacque a Roma nel 29 novembre 1970 e fu la primogenita di Albano e Romina, coppia amatissima per la loro voce e il loro amore. Un colpo al cuore per i fan che i numerosi hanno commentato il post in segno di vicinanza ad una madre che non smette mai di sperare. Ilenia infatti nel 1993 tornò a Roma dalla sua famiglia dopo essere stata per la prima volta a New Orleans. Qui deciderà di lasciare i suoi studi per un po' e dedicarsi alla sua grande passione, i viaggi. Comunica infatti al padre che sarebbe partita dopo poco per il Belize. Così da poter scrivere un libro sugli artisti di strada e senza tetto che popolano quei posti. È tutto pronto e Ilenia parte per il Sud America. Dopo qualche settimana il fratello Iari, durante il periodo natalizio decide di fare una sorpresa alla sorella. Acquista un biglietto e vola in Sud America a trovarla. Il ragazzo però arriverà troppo in ritardo. Infatti la sorella era partita il giorno prima per New Orleans, la città in cui sarebbe poi scomparsa nel nulla. Tante le ipotesi che si sono susseguite negli anni successivi, ma nessuno di queste ha mai portato la luce sulla verità. Mamma Romina e papà Albano però non si sono mai demoralizzati e ancora oggi sono convinti che la loro piccola sia viva e sperano con tutto il cuore di poterla riabbracciare un domani.